Wow! Questa è l'ipserase! Ah, le limonate al basilico! Limonate al basilico, è meraviglia! Ma che carina! Ma che carina! Questa è per me? Grazie! Questa è per l'autrice! Ma guarda che bello! Poi quanto sta bene! Cioè, è post romantico! Noi mangiamo solo cose intonate Se vuoi fare una tortina Non vorrei toccarle perché ho toccato l'anti zanzare Bene Cioè, mi sono capito Bene, Cin A voi A voi No, dicevo, l'anno letto, è interessante Infatti anch'io mi sono chiesta spesso cosa ne può pensare un uomo soprattutto un uomo filosessuale e se un uomo a un certo punto inizia a leggerlo, cioè perché dovrebbe leggerlo perché poi c'è anche un po' questa cosa che quando i libri o qualsiasi tipo di prodotto culturale o mediale viene visto come al femminile cioè rosa immediatamente in qualche modo il maschio si sente escluso e quindi si suppone che lo leggono soltanto le cose Dovresti fare un'altra edizione Ci senta tipo come Head & Shoulders come quegli sciampi da uomo riprendizzarlo Esatto, i post romanti No, però questa cosa non vale invece per un prodotto maschile Infatti non mi ricordo a chi ho dato per essere risposto abbiamo letto per tantissimi secoli cose scritte da un punto di vista maschile vi potete leggere questo da un punto di vista femminile Uno dei commenti che mi è piaciuto di più è stato un mio amico che mi ha detto guarda lo sai che leggendo questo ho capito qualcosa delle donne che mi ha fatto ripensare alla mia relazione precedente in un modo che non avevo pensato che non l'avevo considerato cioè ho capito delle cose ho capito qualcosa della condizione femminile un altro il compagno di una mia amica mi ha detto che ne dobbiamo assolutamente parlare mi sono ritrovato in tante cose anche se appunto questo è un libro scritto prevalentemente da un punto di vista femminile perché conoscenza situata io sono una donna e mi identifico come tale per cui è un libro scritto da una donna eterosessuale che parte dalla sua esperienza però ci sono anche testimonianze e storie di uomini ci sono voci maschili ci sono anche voci maschili soprattutto nella seconda parte quindi non è un libro che è esclusivamente diciamo per donne ma è un libro che è scritto da un punto di vista situato e incarnato ma e anche un altro mio amico mi ha detto mi sono ritrovato molto perché poi voglio dire insomma ogni uomo ha una soggettività diversa come dicevi tu poi il patriarcaso è una coreografia che danziamo tutti quindi non è che significa quando noi parliamo di patriarcaso significa dire gli uomini sono cattivi perché hanno i testicoli noi siamo buoni perché abbiamo le ovai c'è questo riduzionismo biologico lo rifiuso ma il mio grande orgoglio invece è una persona che manteniamo anonima che si è arrabbiato moltissimo si è arrabbiato moltissimo mi ha detto questo femminismo da quattro soldi ma sa che conosci? si conosco il compagno e che a quanto pare poi l'ha visto l'ha rivista in casa il libro che era il salotto ha detto questa carta straccia non la voglio in casa mia e lui diciamo che non è esattamente ecco secondo a colpresiato e quindi sono stata contenta che è un libro che possa fare arrabbiare alcuni e allo stesso tempo far sentire capite e capite altri pensa che mio padre che è un sigma uomo per l'evoluzione dell'alfa quello che fa finta di non esserlo ma poi alla fine è molto progressista cioè in effetti soprattutto sulle relazioni dei miei genitori c'è una dinamica relazionale che è molto progressista per quanto mi riguarda e dalla quale io ho anche imparato e formato tantissimo quello che sono cioè lui mi ha quasi detto senza usare queste parole però che era un po' democristiano cioè addirittura a vero sembra che secondo lui cioè questo libro è democristico cioè lui ha detto è assurdo assurdo che secondo lui comunque cioè tipo bisogna essere più cioè volgari in un certo senso anche più promiscui più e quindi c'è il fatto di dire no però capito cosa intende dire perché questo non è un libro manifesto un libro barricadero un libro radicale no però è interessante perché alcune persone l'hanno ritenuto invece politically incorrect come si suol dire no? quindi un libro che appunto invece non va a raccontare argomenti che tendenzialmente dentro all'ambito femminista queer invece sono molto sbandirati quindi ognuno poi dice la sua eh sì ma perché a me non mi interessa cioè io comunque la mia formazione è una formazione accademica io faccio la cultural scholar la studiosa della cultura e poi mi piace scrivere ho scritto un romanzo insomma non sono non mi definisco una non mi piace avere la posizione di quella che dice cosa bisogna fare cioè qual è il giusto femminismo qual è la cosa giusta da fare la cosa più questo secondo me è una roba fighissima cioè a me piace analizzare e guardare le contraddizioni perché secondo me siamo in un mondo in cui appunto avendo tutti un po' una confusione in testa sia circa la propria identità secondo me sia circa la società no? quindi sono un po' confusi anche molti valori tradizionali per fortuna si tende però a ricercare secondo me quella normatività dei discorsi che ti orientino e ti dicono cosa devi fare questo secondo me è la grande novità che questo libro porta perché ha una visione diversa cioè tipo decido di prendere alcuni dei valori magari tradizionali ve li tengo cari altri invece li includo addirittura tu racconti come sei passata in varie fasi no? cioè da fasi più appunto normative a quella quella parte opposta quella promiscua in cui anarchia relazionale quella parte lì mi è sembrata un po' non so se l'avete mai letto tutto quello che so sull'amore di Dolly Arno ah Dolly Arno ma non l'ho letto cioè la parte diciamo tutto quel libro lì è diciamo il diario della sua parte promiscua della sua vita che è un po' quella cioè quella parte del tuo libro però tutto il suo libro è lei che per tutta una serie di ragioni è molto carino secondo me l'ho riletto da poco perché mia sorella mi sta chiedendo tipo tant'io le ho fatto ho letto prima cosa che ho pensato è cioè mia sorella ha 18 anni ho detto leggiti questa cosa perché vorresti sapere che effetto fa che è eh e poi prima mentre scrivevo l'incontro poi mia sorella un po' cioè non so se tipo leggermente intimidita da me però io ho detto senti io sto scrivendo questo incontro perché lo devo presentare cioè ci sono delle cose che insomma fammi sapere ci sono delle cose che ti hanno colpito se vuoi perché mi piacerebbe e lei mi ha detto va bene ci penso te lo faccio sapere mai più sentita però comunque l'ha letto velocemente mi ha detto fichissimo vorrei leggere altre cose del genere quindi poi mi sono ripresa quello l'ho letto forse a 18 anni stai ancora scoprendo stasera forse ci saranno delle amiche di mia sorella che invece siamo fuori 26-27 anni come? e quindi anche loro vediamo è interessante cioè non lo so non ho ancora non ho ancora veramente il polso però so che l'hanno letto tipo delle amiche di mia madre anche più grandi di lei quindi siamo intorno a 65-70 e poi appunto e poi appunto e poi appunto sono dimenticata che ieri avevo la copia di mia madre perché ho dovuto registrare un video e mi hanno chiesto di portare degli oggetti siccome non avevo oggetti perché ero a casa di mia ho detto vabbè porto un percorso di libri tipo da Geronimo Stilton a questo che è uno degli ultimi che ho letto perché mia madre ce l'aveva quindi prendo la sua copia e poi durante le riprese me lo fanno sfogliare e mi sono dimenticata di guardare c'erano i sottolineatori di mia madre mi sono dimenticata di andare a vedere cosa mi aveva sottolineato cazzo glielo ho ridato e scusa non volevo interrompervi mi ha fatto vedere questa cosa che io li ho visto che c'erano ma non ho guardato cosa perché stavamo registrando quindi ho detto dopo lo guardo e non ho visto cosa cioè a me piacerebbe tantissimo chissà se una volta potrò fare questa cosa però perché per esempio un'altra signora mi ha detto che lei l'aveva comprato l'aveva regalato alle sue figlie e poi ne hanno parlato e secondo me cioè sarebbe interessante vedere vedi qui è la mia mente da ricercatrice sarebbe interessante vedere anche le ricezioni diverse cioè sono i 70 anni rispetto a una di 40 rispetto a una invece di 20 o 30 cioè che cosa quali sono le diverse parti che vengono viste vorrei farti delle domande ma me le tengo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti